L'elaborato che presentiamo è la sintesi di un lungo percorso di educazione civica. Il tentativo è stato quello di far capire ai bambini che tutto dipende da loro. Loro che possono assumere atteggiamenti virtuosi come il rispetto degli altri, il rispetto della natura, rispettare il mare, atteggiamenti che gli consentiranno di aprire la porta nel 2030 che riporterà ad un mondo tutto colorato. In antitesi con gli atteggiamenti virtuosi, noi tutti possiamo assumere dei comportamenti sbagliati nei confronti degli altri, nei confronti della natura. Tutti atteggiamenti negativi che spalancheranno le porte su un mondo inguinato, invivibile e che assolutamente non piace a nessuno. Il nostro augurio è che nel prossimo futuro possono essere i nostri bambini dei cittadini virtuosi. negativi Ichimese Grazie per la visione!